Ciao a tutti i diamanti e diamanti Oggi siamo su Pizzeri Nietzsche 3D Comento e andiamo E questo è un bianco che non conosco E se vedono gli animatroni che si muove Ti prendo i freddi Siamo chica Siamo chica Questo qua non è Toon Blast Giante questo mini pezzettino lo mangi? No No Basta? No E tu? Dov'è? Sai ricordato che sono dei gatti? No Non so che sono i gatti? No 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 Ok, credo che... Gli No, no, no. Tadadadaaa Quella di prima era la notte 2, adesso non è la notte 3 Ovviamente sotto il Poi Sì, Auro! Sì, Auro! No, ora no! Dai, ho appena incominciato il Zagat e l'abitato di una proposta Sì, Auro! Non c'è se vado a morire i cabane Adesso sono a casa dei bimbi dei miei bimbi proprio ricchi, dei stadi del mondo Sì, mi senti è Oi Paolo no Sì, senti 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 Sì Sì, senti Sì 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 ragazzi credo che spero il video vi sia piaciuto ciao a tutti